Con la bella stagione tutti vogliamo sentirci e vederci in forma. Per dimagrire alcuni cibi sono proprio da evitare e sostituire con altri più sani. Oggi vediamo i 5 alimenti da cui stare lontanissimi per una forma fisica perfetta e per raggiungere ottimi risultati in vista della prova costume. Aiuto! Più che una prova per me è un incubo. Mai paura! Tutti possiamo migliorare con le giuste strategie. Per evitare di mangiare le cose sbagliate basta riempire il frigo solo di cibi sani e nutrienti e stare lontano da questi 5 alimenti che fanno ingrassare solo a guardarli. Ecco quali sono. 1. Dolci, biscotti e torte. Non sono certo tra i cibi più dietetici. Contengono zuccheri e farine raffinate in quantità. Contengono anche grassi trans artificiali collegati a diverse malattie metaboliche. Un dolce tira l'altro senza dare effettivo nutrimento al corpo e alla mente. Anzi i dolci ci rendono dipendenti chimicamente e psicologicamente. Ma ambrogio come farò se mi viene voglia di qualcosa di buono? Un pezzetto di cioccolato fondente biologico? Va bene! 2. Alcolici. La correlazione tra alcol e aumento di peso risulta ormai evidente. Molti alcolici sono zuccherati, forniscono calorie vuote senza attivare il metabolismo. L'alcol non solo ingrassa ma anche gonfia, in particolare la pancia che si dilata. 3. Gelato. Che buono il gelato! Ma quante calorie e quanti zuccheri raffinati! Inoltre la maggior parte dei gusti contiene latte vaccino e grassi idrogenati, una vera bomba di calorie che attenta alla linea e alla prova costume. 4. Pizza. La nostra amata pizza con la mozzarella è un altro nemico del peso. In più i carboidrati raffinati e una lievitazione spesso insufficiente sono dannosi per l'intestino oltre che per la bilancia. Eh no, non posso rinunciare alla pizzata del sabato sera! Allora scegli una pizza di qualità. 5. Cereali per la colazione. Nooo, io credevo che fossero dietetici! Attenzione, molti alimenti insospettabili nascondono zucchero in quantità come i cereali per la colazione, le barrette di cereali e anche lo yogurt magro. Ricorda, spesso la dicitura pochi grassi nasconde una massiccia presenza di zuccheri. Per evitare, leggi sempre le etichette, mangia sano e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente! Ciao!